dobbiamo imparare a difenderci dai vampiri energetici chi sono cosa sono i vampiri energetici i vampiri energetici sono delle pensiero che tolgono energia la nostra mente togliere energie significa che occupano il nostro spazio interiore noi a livello mentale possiamo gestire un certo numero di situazioni limitate tutto sommato perché abbiamo un'energia psichica un'energia mentale limitata quando parte di questa energia viene come dire presa bloccata tenuta impegnata da un egregora da una forma pensiero un egregore è un pensiero ossessivo se vogliamo un pensiero dominante un pensiero prevalente e allora siamo in balia di un vampiro energetico quindi un vampiro energetico può essere auto creato ce lo autogeneriamo ad esempio continuo a pensare alla fidanzata che mi ha lasciato e tutto il tempo della giornata penso alla fidanzata che mi ha lasciato questo pensiero fidanzata che mi ha lasciato diventa un vampiro energetico questi vampiri energetici poi in realtà spesso sono proprio gestiti da entità entità che sono intelligenze psichiche come dire autonome che hanno soltanto un corpo sottile non hanno un corpo grosso lano fisico ma sono forme di intelligenza anzi paradossalmente la stessa forma pensiero se molto alimentata può staccarsi diciamo così dal pensatore e avere una vita propria può come dire babbo natale esiste perché ci sono tanti bambini che lo pregano che lo pensano che lo invocano babbo natale piuttosto che gesù bambino piuttosto che qualunque altro santo qualunque altra entità quindi da questo punto di vista il nostro pensiero è creatore perché su un piano astrale il pensiero crea e spesso noi ci auto creiamo quindi i pensieri energetici bisogna tenere presente questo che se noi non lo permettiamo nessun vampiro energetico può in qualche modo toglierci anche per così dire un granello di senape di spazio mentale siamo solo noi che lo permettiamo e che lo alimentiamo quindi prestiamo attenzione ai nostri pensieri quando i pensieri diventano sempre canalizzati su un'unica fonte ma qualunque fonte sia cioè diventano dei dei pensieri che ci tolga l'energia ci stucca le energie ci fanno vivere male ma ripeto qualunque cosa anche un hobby per fare un esempio uno che balla al tango tanto per fare un esempio e che pensa solo al tango tutta la sua vita è concentrata sul tango e il tango il pensiero del tango diventa un vampiro energetico gli toglie spazio interiore questo per fare una cosa diciamo per fare un esempio benevolo insomma di un qualcosa che non è purtroppo sommato così negativo anche se succhia energia se ci toglie energia e quindi dobbiamo imparare ad utilizzare diciamo le energie che abbiamo a disposizione per tutto ciò per le cose che ci interessano ovviamente ma nel momento in cui diventa qualcosa diventa dominante predominante inizia a diventare un po come una sorta di buco nero inizia a prendere a prendere a prendere sempre di più fin tanto che blocca e assorbe energia i vampiri energetici talvolta possono essere identificati con una persona quando dedichiamo esclusivamente le nostre energie mentali a una persona e allora allora potrebbe essere in atto anche una comunicazione manipolativa di cui ho parlato in un precedente video per cui il vampiro energetico fisico diciamo riesce a creare un egregore mentale che poi noi auto alimentiamo sfruttando la comunicazione manipolativa questo può essere un esempio ma il vampiro energetico in se stesso non è mai una persona può essere incarnato da una persona ma è una forma pensiero e siamo noi a dare energia a questa forma pensiero e quindi l'unico modo per difendersi dal pensiero dal vampiro energetico è riconoscerlo e tagliare alla fonte cioè smettere di dedicare attenzione a quelli iniziare a dedicare attenzione ad altro qualunque altra cosa ma in modo tale da piano piano da invertire la rotta e sottrarre diciamo energia al vampiro energetico se io ero concentrato nell'esempio che ho fatto prima tutto sommato ludico del tango argentino per dire nel momento in cui mi rendo conto che prende completamente la mia vita andrò a fare qualcos'altro in modo tale da succhiare di piano piano energia ma potrò fare l'esempio dell'alpinismo piuttosto che l'esempio di qualunque altra cosa cioè nel senso che qualunque entità mentale che prende il controllo della nostra vita è negativa perché diventa un pensiero l'unica che paradossalmente non è negativa è quella dell'amore dell'illuminazione cioè di seguire un sentiero che ci permette di liberarci proprio dai vampiri energetici bene per questo video è tutto seguitemi anche sul blog www.selucionab.com ciao